ciao a tutti oggi prepareremo la torta salata con zucchine e menta il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa ingredienti sono zucchine uova formaggio spalmabile menta parmigiano sale pepe e noce moscata diamo il via la ricetta per la ricetta ci servirà anche una dose di pasta brisebio iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e le foglioline di menta chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 7 adesso aggiungiamo le uova il formaggio spalmabile il sale il pepe e la noce moscata chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5 andiamo un po sul fondo del boccale aggiungiamo le zucchine che noi abbiamo tagliato a rondelline sottili con l'aiuto della spadola amalgamiamo leggermente chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi con l'anti orario a velocità 2 adesso trasferiamo il composto sulla pasta brisebio adesso livelliamo per bene adesso rigiriamo i bordi verso l'interno andremo a cuocere a forno preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti circa la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo torta salata con zucchine e menta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti